Siamo ormai quasi alla fine dell'anno 2023, un anno che ci ha lasciato un attimino con un po' di amaro in bocca per quanto riguarda la quantità di due prodotte, ma tutto sommato ci aiuterà magari a risolvere problemi di giacenze, un po' in eccesso e quindi a riequilibrare un mercato che non era così giustamente generoso nei confronti dei produttori. Al di là di questo, auguriamo a tutti coloro che amano il vino, enologi, produttori, commerciali, comunicatori, un mondo di bene, nella consapevolezza che il vino è un dono prezioso e accettato alla natura e che l'uomo ha saputo trasformare in qualcosa di pregiato, non soltanto organoletticamente ma anche culturalmente e quindi buone feste, buon Natale a tutti, buon anno e che Pateterno ci assista nella salute e nella consapevolezza che siamo molto fortunati a interessarci di un mondo fantastico che il mondo del vino.